Ben ritrovati a tutti da Edoardo Ferrara di trabimeteo.com. Sappiamo ormai bene che ne arriva un'altra intensa ondata di calore, anzi per la verità in alcune zone d'Italia il caldo non ha mai mollato la presa da inizio luglio. Cerchiamo allora di scorgere almeno nel lungo termine la possibilità di una svolta con il ritorno di un po' di fresco e anche di qualche temporale. E stando alle situazioni attuali potrebbe essere verso fine mese, quindi dobbiamo pazientare ancora un po'. In particolare vedete come dopo il 26 luglio la saccatura nord-atlantica potrebbe riuscire a spingere un po' di aria più fresca anche in direzione dell'Italia, in particolare al nord ma con graduale smorzamento anche verso il centro e misura minore al sud. Questo ovviamente ha il prezzo di qualche rovescio temporale anche intenso. Attenzione però che stiamo parlando ancora di una linea di tendenza a lungo termine, quindi servono ancora molte conferme a riguardo, quindi restate aggiornati sempre sul sito trabimeteo.com.